C'è freddo? Mi hanno messo la copertina? Eh, c'ho freddo, sì. Vuoi un mischietto col cortisone? Oh, ma mi lasciate stare. Certo che il whisky nella frutte de champagne. Ma chi ti ha insegnato a vivere? Nessuno. L'hai vista mia madre, no? Quello è stato il mio genitore migliore. Misa, vedo che apprezzi, gradisci, ti piace? Sì, non la lascio stare. L'unica cosa che mi rilassa. Non solo a te. Sì. Stai con me? Ma vai a cagare, vai. Perché? Io non ho mai frequentato persone a cui non piaceva sapere. Beh, a Manfredi non piaceva. Infatti non lo frequentavo. Sì, che poi non si è capito perché abbia voluto investire in vini. Lui era stile. Ma perché quando si è messo in portare i sali del Mar Morto dalla Giordania e perché quando voleva vendere i suppi in Costa Rica? Oh, io quando andavo in Costa Rica a trovarlo, ho passato le due settimane più bene la vita mia. Eh, grazie, con le sudamericane. Ma che c'entra? Che c'entra sempre queste battute che gli fa? Questa mi ricordava quando mi facevo i cannoni dentro il Colosseo. Ma sì, per me. A me questi ne hanno sempre fatto ragare. A me questi ne hanno sempre fatto che lo spettiamo. Ne hanno i dei buoni. Sì, per me.